Ciao a tutti, oggi prepareremo il mentolino, il digestivo alla menta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 20 giorni di riposo. Gli ingredienti sono foglie di menta fresca, vodka liscia, acqua, zucchero e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo in un barattolo le foglioline di menta che abbiamo lavato e asciugato. Aggiungere la vodka. Mescolare con un cucchiaino. Chiudere con il coperchio e riporre per 10 giorni al buio in un luogo fresco avendo l'accortezza di mescolare ogni giorno. Trascorso il tempo filtrare il composto. Mettere nel boccale l'acqua e portare ad ebollizione per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere lo zucchero e il succo di limone ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 3. lasciare raffreddare completamente. Una volta fredda aggiungere il composto di menta e vodka ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3. trasferire in una bottiglia di vetro e lasciare riposare per una settimana prima di utilizzare. mentolino digestivo alla menta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!